Francesca ci siamo, questa maglia rosa è definitivamente tua, che meraviglia! Che meraviglia, sì, sono contenta di aver finito questo giro in rosa, nel senso che è stata una stagione buona e si conclude con questo bel colore addosso. Oggi è stata una bellissima gara, sono contentissima che la finale fosse qui ad Assisi perché è una città che mi ha nel cuore, mi chiamo Francesca e dunque non poteva che essere un coronamento meraviglioso di questa annata. Francesca, hai detto bene, Assisi ce l'abbiamo avuta sullo sfondo durante tutta la gara, una meraviglia! Allora, ti dirò che l'ho vista, il panorama me lo sono goduta nei giri di ricognizione, me lo sono goduta i giorni scorsi ma non oggi durante la gara perché ero concentrata, volevo questa vittoria, la volevo a tutti i costi ed è arrivata, dunque ero molto concentrata sul percorso che era bellissimo, molto tecnico, impegnativo però di quelli che piacciono a me, che danno soddisfazione. Francesca, tu sei una campionessa a 360 gradi, lo possiamo dire, che cos'è per te lo sport? Ma è la mia passione, il mio lavoro e il mio sogno, nel senso che era il mio sogno da bambina realizzato da adolescente che continuo anche in età adulta e dunque che dire, ho fatto tre discipline e vuol dire proprio che lo sport mi piace e fa parte della mia vita.